Caro Benedetto della Vedova, adesso poi ci colleghiamo con Milano così respiriamo un po' un'aria positiva. Allora, qual è la principale critica che fa questo DEF, visto che poi il governo ha preso atto della situazione, no? No, io non faccio una critica al DEF, faccio una critica al fatto che tante parole che sono state spese nei mesi scorsi si sono rivelate delle promesse false, ma promesse false che era chiaro lo fossero. Cioè Salvini è riuscito a spiegarci, a spiegare al popolo, come lo chiama Salvini, e sicuramente generando numerosissimi consensi, che la misura dei prepensionamenti, cioè mandare in pensione la gente prima, avrebbe generato crescita e nuova occupazione. Nel DEF scrivono invece quello che noi abbiamo provato a spiegargli fin dall'inizio, che i 10 miliardi, 30 miliardi in tre anni per i prepensionamenti non producono crescita e producono meno occupazione. L'hanno messo per iscritto? Finalmente. Si poteva fare altrimenti, per esempio, prima di andare a Milano, il presidente di Astro Lombarda, Bonomi, ha detto, togliete questi prepensionamenti, la quota 100, investite quei soldi, a deficit, ma investite quei soldi per ridurre il cuneo fiscale, e dice Bonomi, noi industriali, noi imprenditori, lasceremo tutta quella riduzione nelle tasche dei dipendenti fino a 35 mila euro. Questo mi sembrava un modo molto più serio, di investire delle risorse prese a prestito dalle generazioni future, almeno per generare crescita e occupazione. Invece l'illusione pericolosa e demagogica, che mandando la gente in pensione prima in un paese che invecchia, potesse generare positività per il paese, si è rivelata quello che era, una illusione tragica, perché noi siamo caduti in recessione, peggio e prima degli altri, perché le due misure fatte a deficit, tanto sbandierate, per generare crescita, occupazione, eccetera, non hanno funzionato perché non potevano funzionare. Ora, è vero, e chiudo, che prima si cresceva troppo poco, l'occupazione cresceva troppo poco, l'export cresceva troppo poco, ma crescevano. Gli elettori hanno fatto una scelta diversa, da questo defin poi capiranno che le promesse erano promesse vuote e che la strategia economica è per deprimere l'economia italiana e non per rilanciarla.